Inizia questa corsa sotto questo caldo sole estivo, di nuovo a correre per la politica, anche se la vostra è una lista civica, specifichiamolo. A correre per la politica, a correre soprattutto per la nostra città, per dargli una speranza diversa di quella che è stata fino ad oggi. Noi siamo tutta gente che lavora, che non ha problemi, che però vuol dare una parte di se stesso e donare il proprio tempo alla propria città. Vediamo un po' quello che si può fare, daremo tutti noi stessi, ci presenteremo sicuramente entro i prossimi giorni nella sede nuova di Corsa Italia. Faremo il nostro programma e mi raccomando tutti i cittadini, soprattutto che vogliano bene alla politica, la politica nel senso giusto della parola e soprattutto che si ricordino la lista civica, visto che noi siamo gente che non abbiamo bisogno di niente, abbiamo bisogno soltanto che la nostra città vada avanti. Curiamo Arezzo non è un caso questo titolo. Esatto, è vero che ci sono anche un po' di medici, però quello è un fattore a parte. Curiamo Arezzo nel senso generale di poterla riportare a livelli abbastanza alti, poterla portare lavoro, poterla portare turismo, sanità, tutto quello che c'è bisogno. E ci daremo da fare per far sì che possiamo dare qualcosa di positivo alla nostra città.